E' un'occasione del mio concetto è il mio esperto, uno caldero, uno caldero, per quale si può dire, grazie Eric, grazie Monica, grazie a tutti quanti si sono spattuti, grazie a voi che sono proprio il tuo nuovo posto e tanto per i miei euro. Il mio esperto è il mio esperto è il mio esperto, in modo di fare ho deciso di guidare vita a questo gruppo e questi sono le persone pesati che ancora sconfuga di avermi cantato il mio concetto. E' il mio esperto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.